Rientriamo diretta all'interno di una casa benestante Buonasera, buonasera a tutti quanti Io sono il cameriere della signora Madame Ceratuolo e ormai la servo da tantissimi anni Sono onorato di accogliere i tuoi occhi E' molto diretto anche da lanciare la toriola con la carpa Ambrogio, ciao, guarda Sono tornata proprio oggi con i miei due testorini Hai visto che c'è il mio appena ripresi dal campeggio Guarda, li sono così riposati Proprio perché ci tengo così tanto Ho deciso di chiamare l'assicuratore Quindi mi raccomando, quando suona qualcuno a tuo Io vado a fargli fare un riposino Poverini, sono stremati dal viaggio Ok, io vado eh Mi raccomando Ciao, ciao Sì, chi è? Buonasera, sono l'assicuratore Prego, prego, prego Si accomodi, si accomodi Buonasera 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 E di cosa bisogno? Sono venuto per fare l'assicurazione Quindi mettervi la signora La signorina c'è da sola Lei la vado a chiamare subito Grazie Vado, vado Grazie a te Signora Signora, c'è una persona con una faccia da maniera cosessuale Va bene, va bene, va bene subito da minuti Perfetto signora Sì, la signora arriva subito Che senso? Eh, se può aspettare un attimino Aspetta tutto il tempo che pu... Perfetto, si accomodi dove vuole E' con tutti questi divani E' con tutti questi divani E' con tutti questi divani E' con un po' scegliere Grazie Eccomi, arrivo Grazie, buongiorno, buongiorno Signora Cerasuola, che piacere Piacere, piacere di buon brato Piacere è tutto mio Ci conosciamo? Per carità, noi non ci conosciamo Lei è famosa in tutta Europa Perché è una grande spagliarellista La conosciamo tutti Bene, allora L'ho chiamata qui oggi Per parlare della polizza assicurativa Ciao Sa, ho deciso di assicurare Dopo un po' di tempo I miei due tesorini Sa, li ho da quando ero piccola Eh, però non so quanto Sono cresciuti E con il tempo che pensavo Sarebbero diventati Enormi, però No, vabbè, enormi no Però sono cresciuti Quindi volevo parlare appunto della polizza E parliamo subito Quindi lei vorrebbe assicurare I due tesorini I due tesorini, sì Ho capito Va bene No, vabbè Cominciamo col nome Generico, no? Generico che cosa? Mi scusi I miei due tesorini hanno un nome Ah, volete dire che Ci avete messo pure un nome? C'è, ovviamente Uno si chiama Cip E l'altro si chiama Cioc E' incredibile E' veramente incredibile Si, si, si Si figuri, guardi Sono due proprio tesorini Intelligentissimi Quando io gli dico di andare su Vanno su E quando gli dico di andare giù Vanno giù Ce l'ho capito Ce l'ho capito Cioè quelle vanno a comando Lei che ci deve andare su Vanno su Vanno giù Vanno giù Se non ci crede Te lo faccio anche vedere Cioè lei mi vuole far vedere Come vanno su Certo Vanno giù Intelligentissimi Ah, e aggiunga anche Che durante le serate di Vazze Si divertono addirittura A ballare il rock and roll Con Vazze Addirittura a ballare il rock and roll Sì E come fanno? Come fanno? Li vanno Quando lascia di sé Una cosa incredibile Veramente Sì, sì Pensi Una volta Io portano A una gara di bellezza Ovviamente Si sono classificati Al primo E al secondo Cioè come lei mi vuole dire Che le ha portate Una gara di bellezza Assolutamente Sì È come se io portassi I miei Su un bassogno ad argento Con una moglie di sole E' buona Ah, ma perché lei Addirittura Ha anche lei Voi tesorini Vabbè sì Anche io Voi tesorini Sì, sì Ma è una cosa meravigliosa Eh, lo so, lo so È fantastico E mi dica Mi dica Come sono? Sono intelligenti? Oddio Da come li chiamano Non direi Ma perché? Quindi sono dei trovatelli Li ha trovati per strada Ma le hai mai pensato di Non so Portarli a un concorso di bellezza Come no, come no Gli metto il collare E gli faccio scendere Sì, sì Quanti allora Io di solito Con i miei Mi prendo E li spazzano energicamente No, no, no Ma non li fai No, no Ma non li fai Ma questi fanno male Lascia solo Benzi I miei due tesorini Che sono uno nero E l'altro marrone Sono dolcissimi Certo Uno è nero E uno è marrone Sì, però stia a te Perché il collo nero Ogni tanto Si arrabbia, morte È aggressivo È aggressissimo Cioè uno di due è aggressivo Addirittura Uno di chi è aggressivo Chop Chip no Chip è tranquilli Chop è proprio aggressivo È aggressivo Se lo toccano Veramente È pericoloso È pericoloso Guarda Ho un'idea Sì Facciamo una cosa Certo Che mi dice se li facciamo incontrare Li ha qui con te per caso? A dire la verità Stanno sempre attaccati a me Che carino Che carino E allora facciamo questo Sì Io adesso mi preparo E qua li facciamo incontrare Ma lei veramente sta facendo? Eh sì Cioè lei voleva far incontrare I tuoi tesorini suoi con i miei Ma se ne ha più i tuoi tesorini suoi con i miei Ma se ne ha più i tuoi tesorini suoi con i miei Va bene Va bene? E come no, certo Se affetta per anni Quanto lasciano in cui va il cuore No, no, no Qual la fredda? Va bene Va bene Sì sì Arrivo subito eh Vado a prepararmi Ah vai vai Sì proprio Arrivo Ehi Ehi Vindo bordo Vedete di non farmi fare brutta figura E stasera Invece te è un arcanologo Ma ci fanno un pazzo per lei Non farmi fare brutta figura E' pronto? Io sono prontissimo signor Sto arrivando eh Eccoli qua i tuoi tesorini Eccoli Chip e chop I tesorini erano i due cagnolini Sì Sì vede questo quello nero Quella fredda Cioè questi sono chip e chop Chip e chop Ma uno è spellacciato però Eh L'ho fatto rasare prima della gara di bellezza Sa In realtà è il bianco Però l'ho tinto Che non li posso far rasare Se no pigliano freddo Vabbè Allora insomma Prima Se non li può rasare Mi li faccia vedere Su a destra Li tiri fuori No che lei tiri fuori Signora ma che sta capendo Io sono a freni Che li tiro fuori Quello con le nero Se li mangio a tutta E tu